Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Giulia e oggi vi farò vedere come costruire un mini orticello fai da te L'idea è stata presa da un libro di Geronimo Stilto, possiamo chiamarlo in edizione limitata Che qualche anno fa alla Copp ogni totte euro di spesa davano questi libri di Geronimo Stilto Questo qua si chiama Missione inventa la città, è un libro bellissimo e quando era finito il libro c'era questa pagina Così ho detto un orticello fai da te, allora ho pensato che potevo fare questo video Per fare questo mio orticello vi servirà un po' di terra, scusate le dimensioni Poi dei semi Un porta uova meglio se di cartone Se non avete la terra in alternativa potete usare del cotone E poi uno stecchino Allora, qua consiglio anche i colori acrilici per poter colorare il porta uova Ma dato che io mi sono dimenticato di sopra, adesso sono in giardino, non lo colorerò Però poi, col tempo, lo colorerò Innanzitutto, con questo stecchino Andiamo a fare i puntini, cioè dei piccoli fori, sotto i vari burri Cioè sotto i vari porta uova Non una grandezza esagerata Così all'incirca Ecco qua Ora, se le potete dipingerlo Andiamo a riempirlo con della terra Io ho preso questa terra qui Una semplicissima terra Vado a mettere un po' in ogni continuatore Ho fatto un disastro Mi ha dato tutta fuori Vabbè Non ci dobbiamo preoccupare Poi pulirò Un anno dopo l'altro sto facendo Vi consiglio di tenervi da parte un po' di terra Perché dopo servirà Una volta che ho avuto all'incirca questo risultato Andiamo un po' a battere Per farla mettere dritta E ora pulisco Voilà Semplicissimo Ora andiamo a mettere i nostri futuri germogli Quindi i semi, i semi che poi serve l'acqua Io qui in questo contenitore ho vari semi Non chiedetemi neanche il perché Io ho vari foglietti che ho scritto ogni seme Quando germoglierà cosa diventerà Non è che per questo chiedetemi il perché Quindi adesso sceglierò e poi vi farò vedere Decisione presa Andrò a piantare il basilico Questi qua sono i semi di basilico E ora li andrò a mettere qui Nel caso vorreste piantare più di un seme Potete scrivervi per esempio Questa riga mettete il basilico Questa riga mettete la lattuga Questa riga mettete gli spinaci Magari mettete un iniziale o qualcosa che ve lo faccia capire Così sarà più facile E poi decresceranno individuarli Ora ci andiamo a mettere sopra Pochissima terra Giusto per coprirla dagli uccellini Non tanta come prima Pochissima Perché altrimenti fa Troppo fatica a crescere Ok Ok Questa è la situazione Ora Dobbiamo bagnarla con un po' di acqua Che io non l'ho preso Quindi adesso andarla a prendere Eccomi Ho preso questa bacinella gigante Perché non ne avevo altre Quindi ora Andiamo a bagnare Se non avete più delle dosi Vi potete anche aiutare appunto con del cotone No Io non lo userò perché mi soco male Solito molte persone bannano il cotone E premono L'acqua all'interno della piantina Vi ho consigliato quello di cartone Perché le radici Le radici Delle nostre potute germogli Sarà più facile bucare il cartone E quindi continuare a crescere Ovviamente dopo che sono cresciti un po' Se volete che continuino a crescere Quindi magari fare per esempio Dele foglie di basilico Vi consiglio di Trapiantarli In basi più grandi Se invece volevate fare solo una prova Vi direi Ok basta Magari E basta E finita qui la vostra esperienza Questo mini orto è sia per chi non ha un giardino Quindi per chi non si può permettere un orto Ma anche per inventare una piantina tutta tua Che puoi controllare tutti i giorni Magari non tutti Vanno tutti i giorni in giardino Magari piove Magari non piove Magari In cui fa freddo O sei preso E invece Questo ti permette di tenerlo Sul balcone O su un davanzale Cosa è che volevo dire? Ovviamente Se non avete neanche un davanzale Potete metterlo per terra O comunque sul rialzo Dove però picca il sole Ok Io l'ho bagnata Come vedete I buchi servono per far scendere l'acqua Vi consiglio di tenere sotto un piattino E di bagnarla Non proprio tutti 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 Annaffiate Non esce Tutta sotto Dei buchi E niente Quando poi Appena esce il primo germoglietto Di solito va lasciata chiusa Così Quando esce il primo germoglietto Dovete Prendere Un legnetto O come ho preso Lo stecchino Semplicemente Mucare La parte Più esterna Oppure Se non si buca Semplicemente Appoggiarla E appoggiarla Su quella sopra In modo tale Che la vostra serra Rimanga Aperta Più che una serra È un orto Perché la serra Ha tutto Un meccanismo Diverso Non completamente Però Ha molti aspetti Quindi ragazzi Se questo video Vi è piaciuto Mettete like Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdervi Le notifiche E noi ci vediamo Domani Con un nuovissimo video Ciao